Buonasera, benvenuti al TG7 Basilicata. Negli ultimi giorni i carabinieri della compagnia di Vigiano hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Durante questi controlli sono stati sorpresi due cittadini georgiani domiciliati a Napoli, con patente non conforme all'originale e senza alcun titolo che ne giustificasse la presenza sul territorio nazionale, mentre un senegalese residente in provincia di Salerno è stato trovato alla guida di un veicolo con patente non conforme all'originale. Ed ancora un 47enne italiano che a seguito di perquisizione presso il proprio garage adibito d'officina di autoriparazione è stato trovato in possesso di quattro blocchi motore smontati, di dubbia provenienza senza che ne giustificasse il possesso. Per questa edizione è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.